bella a tutti ragazzi oggi siamo qui con minecraft e vi farò vedere il mio nuovo server ragazzi oggi è un giorno speciale perché è un capodanno ragazzi non so perché buon capodanno ragazzi buon capodanno un vero buon capodanno aspettate sto aggiustando una cosa ecco lo aggiustato ragazzi entriamo nel server perché non si fanno aspettate scusate ragazzi però aspettate vediamo ora ecco 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 ragazzi ce l'ho fatta ragazzi ora ve lo faccio vedere va un po' relento non so mi va non lo so perchè mi va cosi ecco qu'è 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 si ecco saliamo si alermo saliamo saliamo qua dovevo fare una cosa ancora lo devo continuare perchè ancora non è finito ancora non è tutto finito cavolo sto microfono vediamo ecco è giustato andiamo qua guardate ragazzi guardate la ecco questi sono ora vi faccio vedere da qua pallo poi ci ho messo c'era un'altra scritta però ci ho messo server, porto e pesca è molto bello come cosa però ancora non vi dico il mio id perchè ancora lo devo finire ma ancora non è completo il server al tutto lo devo stare un po' che ancora qua come vedete è tutta terra non può essere ragazzi qua io voglio fare una cosa è tipo una casa volante come vedete come vedete di sottolineare niente che lo esiste però come vedete solo è fatta di un lato per salirci per andare nella casa senza volare perchè per ora è mezza creative perchè per crearla come si sa si mette creative perchè con survival non si possono fare tutte queste cose di qualche ci sono invece con la creative è possibile ce ne ha altre più lunghe però io devo mettere una casa verso qua che quando la metto in survival poi troverò i carrelli si chiamano per farsi il giro quindi devo mettere una cassa qua o qua come vedete e una cassa dall'altra parte ora scendiamo ecco 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 come vedete ci sono le scuole e ci sono qua si c'erano i coccodrilli tipo ci stavano due coccodrilli qua e due di qua allo su metterli era molto bello ci stavano ci stava veramente ecco ecco non vi faccio vedere tutte le cose perchè sono davvero tante quindi sto qui a far vedere tutte ancora gli devo mettere soprattutto il login per questo ancora non metto il lead dal server ragazzi aspettate ragazzi devo fare scusate scusate ecco 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 io ho messo questa scritta la v non mi piace tanto eh devo gestare un po' questa scritta tutta no solo la v perchè fa schifo non so in quale vediamo non so dove fare il logic scusate poi metterò no qua però vediamo farò una stanza molto grande questa è mini hanno una cosa una una cosa molto una stanza come voi la chiamate no molto grande e poi lì dentro io metterò lo la il logic che farete che chi che 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 con entro rigiocherò per fare alloggi io ho la versione 1.6.2 quella vecchia perchè mi piace perchè ci sono i cavalli ora quella l'uova è almeno se non mi sbaglio 1.7.4 se non mi sbaglio se non mi sbaglio se mi sbaglio lo scrivete nei commenti per gli altri che non lo sanno lo scrivete nei commenti se sbaglio o no se sbaglio lo scrivete cosa l'ho detto io ho dato di google non so perchè ho fatto vedere il server ecco l'altro paisaggio velo lo faccio vedere com'è guardate è bello ragazzi per lo farò tutto metterò farò un altro video e sotto nella descrizione però in un prossimo video capiamoci il link il link diciamo link l'ip del server l'ip del server l'ip del server ragazzi mettete mi piace iscrivetevi soprattutto iscrivetevi per favore iscrivetevi e buon capodanno a tutti e felice anno nuovo ragazzi alla prossima ciao ragazzi ciao